Salve a tutti signori e signori e bentornati alla rubrica Health Section. Quest'oggi parleremo di un problema che purtroppo si affligge, e affligge molti di noi la diarrea. Durante un episodio di diarrea le nostre feci sono mogli e ricche di acqua, che capita di frequente e sebbene sia una situazione fastidiosa non è quasi mai grave per certuna. Di solito i sintomi durano due o tre giorni e esiste una vasta gamma di farmaci da banco, cioè senza prescrizione medica, che si possano adoperare. Nella maggior parte dei casi si è affetti da diarrea una o due volte l'anno, tuttavia se siamo affetti da sindrome del cronio irritabile questo potrebbe venire anche più spesso. Abbiamo dei sintomi leggeri, e queste sono la sensazione di diarrea di bagno costantemente, molte feci, acquese e molli, anasea, vomito, violazione della stomica e crambi. E poi abbiamo dei sintomi un po' più seri, come febbre, sanguinamento, o muco immunocidio in digesto o nelle feci, o perdita di peso. Attenzione, se abbiamo più di tre scariche al giorno e non beviamo abbastanza frutti, rischiamo di disidratarci, quindi questo può essere pericoloso se non viene trattato in maniera appropriata. Quali sono le cause della diarrea? La di solito la diarrea è causata da un virus che infetta l'intestino, in un certo spesso si definisce l'influenza intestinale o gas intestinale. Tuttavia può anche modificarsi in seguito l'abuso di alcol, allergie di alcuni alimenti, diabeti, patologie dell'intestino, come ad esempio il morbo di Crohn, la politica e il cerosa, o il consumo di cibo irritante del sistema digestivo. Manca infezioni batteriche, abuso di farmaci lassativi, abuso di antibiotici e FANS, ipertiloidismo, alcuni tipi di tumore, la radioterapia, operazioni chirurgiche del tratto intestinale, ma anche difficoltà ad assumere alcune sostanze nutritive che notano il malassorbimento, anche costipazione prolungata e jogging. Attenzione, perché è un tipo di simbremio che va sotto il nome di diarrea del corribore. Cos'è? Quando è che dobbiamo chiamare il medico? Beh, se si nota sangue nelle feci, oppure delle feci molto scure, non sappiamo cosa ci sia all'interno. Quando abbiamo una febbre superiore di 38 gradi che duri per più di 24 ore, quando abbiamo una diarrea che duri per più di due giorni, una nausea o vomito che impediscono di bere i liquidi per potersi reidratare, in questo caso il medico l'ha chiamato, ma anche dolore severo all'addome o quando rientriamo in un viaggio in lontananza e siamo affetti da diarrea, perché potrebbe essere stata contratta un'infezione in una zona tropicale, ad esempio. Ci sono altri sintomi che possono indicarci la presenza di una infezione durante la diarrea. Ad esempio abbiamo urine scure, poi abbiamo quantità di urine molto inferiori a quella di una norma, un battito cardiaco accelerato, mal di testa, pelle secca o desidratata o irritabilità e confusione mentale. Questi sono altri sintomi che si possono verificare. Come si tratta? Cosa più importante. Beh, se si tratta di un caso brando di diarrea non ci sarà bisogno di prendere nulla. In alternativa è possibile acquistare uno dei numerosi prodotti da banco e ovviamente la posologia cambia da prodotto a prodotto. Quindi abbiamo degli antidiarrorici che inibiscono una mortalità intestinale e questi vengono utilizzati anche in caso di diarrea acuta. In associazione si possono bere delle bevande elettritiche oppure si possono assumere per via endovenosa. Ora, le sostanze più utilizzate tra gli antidiarrorici sono i fermentilattici e i probiotici oppure il bismuto salicilato, ma anche il modium, l'opemid e dissentale che fanno parte della categoria dell'operamide, utilizzati tutti in fase acuta. Poi abbiamo il difeno assilato, utilizzato sia in bambini che in adulti. Poi abbiamo la codeina, come è l'X-Plan, infatti la codeina non soltanto è utilizzata contro la tosse, ma è utilizzata anche contro la diarrea acuta non complicata negli adulti, da non somministrare mai ai bambini. Poi abbiamo, molto importante, la terapia reidratante. Infatti la disirotazione ha un effetto secondario della diarrea, però è a volte debilitante. Il contrastalo dobbiamo bere moltissimo, o appunto utilizzare delle soluzioni endovena che vengono prescritte dal medico. Poi abbiamo degli antispastici e antipolinergici, sono dei tipi di farmaci che vengono utilizzati non come prima linea, ma come seconda linea, che servono a limitare crampi addominali e dolori in generale. Ad esempio abbiamo Buscopan, Adofixerine, eccetera, oppure Spasmex, nonché atrobina luxo. Questi sono dei farmaci, vi sto dando soltanto alcuni esempi, per indicare quali possono essere utilizzati in questi frangenti. Ora, è anche possibile associare degli antiemetici, quindi in caso di vomito, a questo tipo di farmaci, ad esempio del biochetase, del plasido, del perido. Ora, in alcuni casi è possibile che il medico prescriva anche degli antibiotici a largo spettro, nel caso sospetti, un'infezione batterica. Questi sono Normix, Bacterin, Rifocin, eccetera. In caso di prurito, bruciore o dolori addominali, sicuramente quello che ci può fare bene a giudare i farmaci è un bagno caldo e in seguito ci dovremo asciugare tamponando la zona interessata piuttosto che strofinando. Poi dovremo utilizzare delle pomate antiemorroidari, nel caso in cui notiamo delle emorroidie o una sensibilità particolarmente sfuggata nella zona perianale, ad esempio preparazione H, trottofono, trotto sedile, eccetera. Ora, ultima raccomandazione, oltre all'acqua, per restare reidratati, possiamo utilizzare dei sottini frutta senza polpa, brodo, bibite senza caffeina, tè con miele o bevande rigeneranti per atleti, ad esempio Gator, Powered, eccetera. Penso che con questo siamo a tutte le informazioni che volevo darvi. Se gradite le informazioni, non necessitati a scrivermi a raff.pillachiacciolagenet.com, ripeto raff.pillachiacciolagenet.com e se la credo di rispondervi. Vi ringrazio per la cortesia attenzione e buona giornata.